Di nuovo tutti in piazza, di nuovo insieme, come due mesi fa. Stellantis e l'Automotive sono ancora al centro dei dibattiti torinesi, di sindacati, lavoratori e istituzioni. Una non-stop durante tutta la giornata, dopo lo sciopero che aveva portato in piazza migliaia di persone il 12 di aprile. È tornata una manifestazione unitaria che oggi, in piazza Palazzo di Città sotto il Comune, ha visto la presenza di tutte le sei sigle sindacali. Un presidio unitario a cui hanno partecipato anche il sindaco, il presidente della regione. Il rilancio di Torino parte da Mirafiori, titolo emblematico che dà definizione e specificità a quello che oggi lo stesso capologo piemontese chiede a se stesso. Il 12 aprile abbiamo manifestato e siamo scesi in pazza con tutti i lavoratori dell'Indotto. Oggi dobbiamo far sì che il messaggio venga recepito a livello istituzionale e a livello di tutta la collettività affinché il tema della produzione di autoveicoli a Torino e un pezzo di industria, che vuol dire un pezzo di economia della città non vada perso. Oggi è la giornata dell'orgoglio torinese, siamo una città ancora fortissima, con grandi capacità e lavoratori e chi viene ad investire qui trova business. Queste le parole di Edi Lazzi, il segretario torinese della FIOM. L'importante è far capire ai produttori mondiali che se vengono a Torino trovano terreno fertile, rimarca quindi il sindacalista. La produzione della 500 ibrida, già sul finire del prossimo anno, il 2025, come annunciato dalla D-Fiat, non basta, non può bastare. Ribadisce la FIOM che in realtà non si tratta di un nuovo modello, ma di una motorizzazione di un'auto già esistente. Un modello in più, questa la richiesta gran voce da parte dei sindacati, ma non solo. La notizia degli ultimi giorni, che porta allo stop poi del progetto della Gigafactory a Termoli, come annunciato dalla stessa Stellantis, non sembra essere delle più incoraggianti. Non di minore entità, ovviamente poi il destino dei lavoratori, con una continuità per Mirafiori che sarà tutta da vedere. L'assunzione di giovani a Mirafiori poi è il tema portato alla luce dal primo cittadino Stefano Lorusso. Credo che Stellantis debba e possa assumere dei giovani, è un segnale che credo sia necessario ad avere un orizzonte temporale più lungo della data di pensionamento. Lorusso si dice poi consapevole di aver fatto il massimo per cercare la ripartenza di Mirafiori e della stessa città. La notizia della 500 è comunque molto positiva, commenta. La sfida non può essere considerata conclusa. Una sfida che sicuramente durante il suo lungo cammino vedrà altre tappe fondamentali per l'assetto economico della città.